Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Ho fatto la felicità della mia infanzia, infatti all'inizio era semplicemente caratteri asci, asci o come si usa dire, per poi con questa versione Steam diventare in versione diciamo grafica con un'interfaccia grafica. È un gioco complesso, lo si può considerare il padre di Rimworld e di tutti gli altri giochi di sopravvivenza con costruzione della base, con una storia che viene creata ogni volta diversa, una complessità senza precedenti con possibilità di allagamenti, uccisioni, malattie, pazzia, insomma ci sono tantissime cose che possono succedere ai nostri nani. Non è un'interfaccia semplice quella che troveremo in Dwarf Fortress, ma ve lo voglio far vedere comunque. Ed eccoci qui, vi faccio vedere velocemente il gioco, lo inizio dalla mia partita, ma in realtà la generazione del mondo di gioco avviene non immediatamente perché il gioco può generare da mi pare 5 anni a 200 anni di storia precedenti al vostro arrivo. Quindi io in questa partita ho scelto l'inizio di 100 anni, quindi ci sono eventi successi per il mondo di gioco per 100 anni insomma, quindi qua potete, vabbè, shiftare. L'interfaccia grafica è molto particolare perché come vi ho detto all'inizio era tutto fatto a caratteri, tutti i caratteri che conoscete della tastiera insomma per identificare ogni singola cosa. Se c'era erba c'era un carattere, se c'era uno sterrato ce n'era un altro, se c'era un blocco di un tipo pieno c'era un carattere magari minuscolo, uno maiuscolo. Insomma, avrebbe fatto la velocità della mia infanzia perché mi ci sarei perso. Ora un gioco del genere è ingiocabile ai più, anche ai giocatori più navigati perché siamo abituati a ben altro. La prima cosa da notare, ve lo voglio dire subito, non è fluido, ma perché è proprio il gioco fatto così. A vent'anni questo gioco ed è uscito adesso e non è possibile dire è meglio Rimworld perché questo è il padre di Rimworld. È a confronto Rimworld una passeggiata. Quindi insomma, questo è uno dei giochi penso più difficili. Ve lo consiglio, no, se non siete appassionati di base builder, di sopravvivenza, no. Per vari motivi, dal scattosità al fatto che per zoomare dovete usare il control e la rotellina perché usando normalmente invece la rotella potete salire e scendere. Infatti vedete che qui ci sono dei tronchi, no? Io adesso mi allontano un po' così vi faccio vedere. Se io vado indietro, scendo, vedo cosa c'è sotto terra. Un livello sotto, due livelli sotto, tre livelli sotto. Vedete qua a destra che aumentano, no? E io posso scendere del tutto e andare a vedere cosa c'è nella massima profondità. È una meccanica che abbiamo già visto in gnomoria, ma nasce qui. Quindi se invece noi andiamo verso l'alto abbiamo, vedete, inizia ad uscire i rami degli alberi, le chiome, fino ad arrivare a quest'altitudine dove non ci sono più. Quindi questa è l'altezza massima. Quindi uno, due, tre, quattro, cinque. Cinque livelli di altezza alberi. Non ce ne sono altri qui. Almeno questa altezza qui non c'è nulla. Ci fossero montagne, troveremo gli alberi, troveremo, scusate, la cima delle montagne e la neve e basta. Cioè è macchinosa come cosa, ma che può dare le sue soddisfazioni anche in virtù del fatto che potete mettere in pausa quando volete. Ora, io vado nella mia base. I nani arrivano con questo, con questo carretto qui. Avete vari nani e se cliccate su ogni nano potete vedere il suo nome. Ovviamente non è in italiano. Se verrà tradotto, chi lo sa, ma non credo, sono vent'anni che è in inglese. Poi se sapete di qualche traduzione, fatemelo sapere. Vedete la sua età. I nani vivono tanti anni, quindi 74 anni non sono niente. La moglie o il marito, insomma, l'amante. La vita, le posizioni ufficiali. Cioè se voi vi domandate, ma questo gioco ha quella possibilità? Quasi sicuramente sì. Perché potete dare i ruoli, insomma, fare qualcuno, dargli un'abilità a uno piuttosto che un'altro. Le sue abilità, i suoi bisogni che non sono stati ancora riconosciuti, insomma, soddisfatti. Quello che è successo, gli oggetti che ha, sta trasportando acqua. No, è coperto dall'acqua, perché sta piovendo. Quindi qua sta semplicemente dicendo che è completamente zuppo d'acqua, in ogni parte del corpo. La vita, con le ferite, i trattamenti, la storia, la descrizione della sua vita, generato appunto dalla generazione della storia all'inizio, della timeline. Le sue abilità, le stanze che ha e che comunque riconosce, i lavori. Poi qua è stato tutto semplificato, pensate che una volta non si usava neanche il mouse. Ci si muove con la tastiera. Personalità, pensieri, capacità militare, insomma, se è in qualche squadra militare, eventuali uniformi, eventuali kill, le uccisioni che ha fatto, i gruppi, le relazioni. Cioè qua bisogna studiare. Per imparare a giocare a questo gioco bisogna studiare, bisogna imparare a padroneggiarlo, perché non è semplice. Comunque, scendiamo in profondità, vi faccio vedere che cosa ho fatto. Al momento io avvio, vedete che tutto abbastanza, vado un po' indietro. Vedete che va abbastanza, per modo di dire, a scatti. Vedete che qui c'è l'acqua. Allora noi ci domandiamo cosa c'è, perché c'è acqua. Perché se io vado su c'è il fiume. Quindi vuol dire che il fiume è qui, a livello del terreno, e scende anche un metro. Basta, poi è finito. Quindi è un fiume abbastanza poco profondo. Ma se io vengo qui, scavo l'acqua e entrami alla gala base. Quindi bisogna studiare un meccanismo, una botola, un qualcosa, insomma, per magari mettere una porta stagna qui. O fare defluire il fiume. Cioè, ma io credo sia abbastanza infinita l'acqua che arriva da qui. Quindi dovrò trovare un modo per, o scendendo. Quindi se io scavo adesso, ad esempio, ve lo faccio vedere giusto così. Io adesso vado a scavare, e qua c'è la stanza da letto dei tizi, la camera da letto. Vado qui e faccio scavare i tizi. Adesso sblocco e appena possono, vedete il tizio sta venendo qua e scava. A questo punto io posso decidere di costruire una scala. Una scala qui, che va sotto. Vedete che me la piazza qui. L'avessi piazzata sopra mi faceva un'uscita. Quindi lui adesso andrà e scaverà. A questo punto, se io vado sotto, vedete, sotto di un piano ho la base. Sotto di un altro piano ho questa scala, che adesso sta costruendo per me. A questo punto io, vedete, non ho più il problema del fiume, perché ci sto scavando sotto. Poi, io ci ho giocato pochissimo alla versione vecchia, quella con i caratteri. Aveva delle mod grafiche, ma niente a che vedere con quello che vediamo qui. Però, dovete considerare che qui, appunto, come vi ho detto, non me ne intendo, ma è possibile che venga presa in considerazione anche l'umidità. Potete costruire addirittura i carrelli delle miniere, quindi usarli poi per trasportare tutto da, tra un piano e l'altro, insomma. Quindi qui può diventare davvero una miniera. Non vediamo quello che c'è da scavare, a parte qui che vediamo che c'è del materiale. Pit wall. Rock salt cavern floor. Cioè, ci sono diverse cose, qui c'è e matite. E vedete che qua hanno portato tutto di sotto. Ora ho la mia stockpile, a cui accedo. La stockpile 1, la vedo e la posso, con questo tastino qui, espandere. Quindi la espando a tutta la stanza. E, altra meccanica interessante, vedete che io qui non ho... Adesso vi faccio vedere rapidamente, perché da dire ce ne sarebbero tante, ma voglio aspettare e vedere se vi interessa vedere un proseguio su questo gioco. Ad esempio, io voglio fare... Allora, furniture. Voglio fare un letto. E il letto... Io devo averlo. Non ci sono letti al momento, però ho delle porte. Quindi vedete che io adesso vado qui, nella furniture. E prendo... Adesso non mi ricordo più, mannaggia, dov'è la porta. Ma non credo sia qui, però era giusto per fare doors. Eccolo qui. Metto la porta e la metto qui, prima della stanza. Mi dice, tu hai due porte di legno di pero e legno di albicocca. Albicocco. Una distante 4, una distante 23. Quindi probabilmente qui vicino c'è... No, boh, distanza 4. Vabbè, comunque non mi interessa. Ci mettiamo il legno di pero. Ok. Mentre qui voglio posizionare un'altra cosa, quindi metterò un'altra porta. E ci mettiamo... Lo mettiamo qui e usiamo l'altra porta. Ok. Siamo sempre in pausa. Sentite che belli suoni anche del temporale dietro. È molto curato. Io vado nel workshop del carpentiere e gli dico, voglio un nuovo bed. Il bed. Posso scegliere... Anzi, lo potrò scegliere prima. Lo annullo. Faccio vedere. Ho premuto un tasto sbagliato, ma va bene. Bed. Make bed. Mi dovrebbe far scegliere anche il materiale, ma in questo caso no. Però, vabbè, pazienza. Lo fa con quello che trova. Bene. Ora abbiamo messo il letto in produzione. Ora vi faccio vedere che... Avvio. Il tizio, qualcuno andrà, prenderà la porta, la posizionerà, la stanno già montando e l'hanno montata. Vedete che hanno proprio colore diverso. Lui intanto sta producendo, il tizio qui sta producendo, è un proficient carpenter, quindi è un buon carpentiere, sta lavorando alla costruzione di un letto. Il letto dovrebbe essere stato costruito, e quindi andando su costruzioni, no, sarebbe furniture, dovrebbe abituarmi bene, bed, dovrebbe darmi un letto. Non l'ha ancora fatto, lo sta facendo. Vediamo quando l'avrà fatto. Sì, eccolo lì, l'ha fatto, l'ha portato di là. Vedete, non aiuta il fatto che sia così scattoso, ma ci si passa sopra, perché comunque è un gioco, è un prezzo da pagare per avere probabilmente uno dei giochi più completi della storia, per quanto riguarda i base builder. Insomma, poi può piacere o non piacere. Io, se vi dico, ve lo consiglio. Vedete qua, me lo dà subito, mi dice che c'è, quindi tac. Dovrebbe esserci forse un modo per piazzarlo e farlo costruire contestualmente, ma credo che serva questo, un manager, perché è richiesto per gestire i work orders, quindi vengono fatti, emessi gli ordini, e vengono fatti lì. Vi faccio vedere, in conclusione, anche gli altri workshop, c'è il clothing e il leather, quindi tessuti e pelli, il farming, le fornaci, le ceneri, l'arcolaria, insomma gli archi, il carpentiere ha già fatto, il craft, il craft, praticamente interessante il craft, l'avevo piazzato prima, ma non l'ho più piazzato dopo, il craft sarebbe, vedete, li potete piazzare così, per la, eccolo lì, ok, l'ho piazzato in quel materiale lì, per vendere, quindi quando arriverà la caravana di autunno, ce lo dice il tutorial all'inizio, potremmo vendere, poi, se vi faccio vedere gli altri, il gioielliere, il magma forge, la forge col magma, la meccanica, metalsmith, screw press, la pressa, e per l'assedio, quello che fa i saponi, stone worker, laboratorio di pietra, ma tra l'altro, se andiamo qui, dovremmo poter vedere altre cose, tipo le macchine e i liquidi, quindi abbiamo le leve, i pozzi, il floodgate, insomma per aprire o chiudere, i cancelli e le righe, insomma, la pompa screw, la pompa, la ruota dell'acqua, il mulino, l'assemblaggio, eh, ce ne sono di cose, le gabbie, le gabbie per gli animali, quindi per gli uomini, le trappole, la pressure plate, il deposito commerciale, c'è, c'è veramente di tutto, calcolate, qui, addirittura, c'è tauling, rude for minecarts, come vi dicevo, i carelli della miniera, ragazzi, io vi ho fatto vedere, ve l'ho buttata lì così, perché ovviamente, adesso lui è andato sotto, che cacchio sta facendo? Ah, sta scavando, ok, perché poi ogni ambiente dovrebbe avere le sue statistiche, a livello di gradi, a livello di tutto, qua invece abbiamo altre cose, abbiamo tutti i cittadini con i lavori che stanno facendo, abbiamo le informazioni sulle tasche, i luoghi, le location, work orders, nobili administration, questo non l'avevo ancora visto, milizia, comandanti, dobbiamo assegnare i capitani, insomma i leader delle milizie, si va al messaggero, il broker, il chief medical, è tutto, oggetti, giustizia, un sistema di amministrazione, come uno sceriffo o un capitano della guardia, testimoni dei crimini, fanno rapporti, insomma, ci sono le gabbie, cioè, dovete gestirvi anche il vostro mondo, quindi è complessa la cosa, e non mi azzardo a insegnarvi nulla, voglio vedere se c'è entusiasmo intorno a questo titolo, e poi se ne potrà parlare, potrò magari studiarmelo bene nel corso delle prossime settimane, e portare una serie, lo ipotizzo perché è un gioco di nicchissima, se non il padre di tutti i basebuilder manageriali, insomma, di costruzione e di sopravvivenza, ma che dal 90% della gente, credo, non sarà capito, perché ovviamente non è un gioco al passo coi tempi, è stato reso, utilizzabile, quindi con l'interfaccia grafica, che è molto carina, però resta un gioco di 20 anni fa, che sta facendo la storia, che non è mai uscito, ed è continuato a essere in sviluppo, e lo è ancora adesso, costa 30 euro su Steam, li vale, se siete appassionati, assolutissimamente sì, perché non troverete nulla di meglio, se lo consiglio, non a tutti, senza dubbio, come lo dico spesso, ma in questo caso lo dico ancora di più, ora, attendo un vostro parere sotto nei commenti, e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay, alla prossima ragazzi, e ciao ciao.